Che fregatura, allora non dovrebbe essere troppo un problema quello, ma è di sicuro una distrazione che non volevamo avere in questo momento Ma io quasi con questi scenderei qua sotto, a riprendermi il forte Sì Vadi e muovo questi 23.000 in qua Voi qui, ok No, e non ho visto che c'era della gente, porca miseria Qua stanno facendo degli scherzi, no? Non ancora almeno Non ci si può distrarre un attimo comunque No, no Allora, quelli stanno muovendo là Questo fronte è sotto controllo C'è altra gente che mi sta arrivando No, questa non è roba nostra Cioè la Macedonia viene a rompere le scatole dopo tutto questo tempo Ah, qua dovremmo vincere ma Non so esattamente come si svolgerà la situazione Sì, no, andrà come dichiarato Ottimo Comunque anche loro hanno problemi di generale mancanti Ah, qua Voi avanzate e avanzate No, voi andate direttamente qua Perché tanto Una volta che arrivate là Sarà già risolto il problema Qua Stanno sfondando la grande Ma hanno dei generali? No Noi ne abbiamo Sì, di livello 6 Per cui se dovessimo scontrarci Dovremmo riuscire a vincere Ok, l'abbiamo vinta Abbiamo perso tantissima gente Nell'intento Ma... No, vai, vai Fermatevi qua Che poi dopo pizzichiamo questi qua Ah no, ci vengono loro contro Così, a caso Le mie navi sono arrivate qua Mi sa non ho ancora Quasi 5 dicembre Aspettiamo che arrivino loro 4 5 Ok Allora, reclutiamo questi Dai 15 o 16 Ti decidi? Vada Allora, adesso questi qua Li Mandiamo Qua contro il macedonio Perché mi dispiace Ma Ah, anche se in realtà come Devo dire che come morale Sono a terra Perché li abbiamo appena assunti Ehm Perché siamo almeno 14% Di Guerra Se la provincia Ce l'abbiamo Ma Rudiana Ce l'abbiamo La provincia di Rudiana È questa Ce l'abbiamo La provincia di Rudiana Boh Mi vengono addosso? No Nel dubbio Sposto quelli là Sposto quelli là Ok Voi andate qua No Non vogliamo andare a questi Vogliamo andare prima a quelli Altri Comunque ci sono delle truppe che mi mancano qua Perché ne ho ancora visto quasi nessuno Ne ha reclutato tantissima gente Questi si schiantano adesso I miei mercenari qua come stanno? Hanno ancora un morale molto molto basso Li sbarcherei là Ok Li abbiamo battuti E la grande Direi con questi che Risalgo in su Almeno qua Perché mi sa che loro adesso torneranno indietro Visto che vado a prendere il forte Avanziamo qua Vero che abbiamo poche truppe Dovremo muovere con più truppe Ma voglio togliermi questi dai piedi Ah se ne vanno Oh E' nato un figlio Alleluia Ah già 66 anni Non era messo Non ci speravo più E' finita la guerra civile La va bene Eh mancano dei governatori in giro Vai vai accetto Allora aspetta un attimo che Qua controllare tutta la situazione Non è per niente facile E no qua devo Scusatemi ma devo recuperare La Non è in paura Allora facciamo che muovo le navi qua Intanto così Blocco loro il passaggio Cosa fanno questi Mi stanno arrivando da dietro Di là Muoviamo questi Mi scuso se sto andando un po' più lento Del solito ma Penso che possiate capire Che la situazione da gestire E' un pochettino Complessa Ora come ora Data La situazione Perché mi dice che Ma non è vero che il defender controlla la provincia Ce l'ho praticamente tutta io Vabbè adesso muoverò con gli altri In modo da Prendere la situazione Ok Allora sentite Andiamo là Perché mi sono un po' Stufato di tutto Questo Rimpallarsi Muovo anche con quelli In caso sia necessario Ah qua abbiamo sconfitto quei tizi Molto molto bene Questo è quando vanno via Il 10 giugno Se noi muoviamo Quando arriviamo? 5 giugno Ottimo Ok Sta arrivando della gente Da Qua Allora Questi 23.000 Lì Devo muovere in supporto Assolutamente E questi 21.000 Muovetevi qua A Ormirzad Il video sta venendo lunghissimo Mi sa che lo spezzerò In due parti So che è l'unica opzione Ah muovo questi là Giusto che non mi facciano Gli scherzi Ok abbiamo preso Canepsa Però c'è parecchia gente Che mi sta venendo qua addosso Non ho un Un generale Mettiamone uno Di livello zero E' sempre meglio Che non Essere senza Ok questi abbiamo sconfitti Quindi direi Marce forzate Fino a Canepsa E' vero che non recuperano il morale Ma in questo momento E' necessario Allora Qui la situazione è Positiva Abbastanza Oh qua Questi sono andati via Voi fermatevi Perché non è più necessario Che andate fin là Allora La guerra di Macedonia Invece com'è Questi sono messi Bene Allora io direi Che andiamo qua E li picchiamo Con gran forza Ah sono uscite fuori Con le triremi Porca miseria Mi sa che stiamo perdendo Ma abbiamo anche un generale più forte noi Nel dubbio Costruiamo navi Altre quindici male non fa Allora voi state andando qua Voi state prendendo Voi state andando ad attaccare Com'è che fanno ad attaccare entrambi Ah Porca miseria Marce forzate E voi scendete qua sotto Forse non riusciamo a pizzicarli Ma Ci stiamo difendendo bene Comunque con le navi Mi pensavo peggio Era messa molto peggio la situazione all'inizio Ok via Andate là Veloci Avanziamo Ok li abbiamo sconfitti là Ottimo Questi riescono ad arrivare Speriamo So che qua la situazione si sta facendo molto affollata E Non si sono modo di girare giù delle altre truppe Forse queste No vabbè devo scendere giù con queste anche per forza Ma voi andate qua E voi andate qua Se non anche qua Ah questa allora si sta ritirando tutta la zona Direi che con questi No vabbè Per ora li lascio così Abbiamo delle zone qua Non Trazzel Oh io farei che con questi mi muovo a Trazzel Tanto qua Non dovrebbero venire a rompermi le scatole Più di tot Dovete arrivare in fretta per piacere Voi retrocedete qua Perché per ora mi sembra l'unica situazione accettabile Allora Va bene Mentre invece i miei cari mercenari qua Dragora di Macedonia come stanno messi Eh muoiono uno dopo l'altro Stiamo prendendo tanto di quell'attrito che non Effettivamente ho preso Il numero maggiore Di mercenari possibili ma Non è stata un'ideona Non posso far pace con loro White piece? No Abbiamo vinto Ok qua Ottimo Ah questi ci muovono Incontro ma Io mi disporrei in modo un po' diverso In modo da Non prendere troppo attrito Ok Allora questi sono a posto Muoviamo qua Abbiamo vinto Abbiamo vinto con la battaglia navale Grandissimi Grandissimi È un'ottima cosa questa Allora rientrate qua No Rientrate qua in port Non serve male Se Tenessimo questo Riprendiamoci il port Porca miseria Sotto sono davvero tanti Non so se riusciamo a gestirli tutti Intanto muovete qua Questi E Questi altri 21 Li muoviamo qua sopra Poi Voi Muovete tutti qua Voi muovete qua E Ah no Non posso scoprirmi qua Non troppo No vabbè Questi posso ancora mandarli Ci sta E Macedonia Andiamogli addosso Hanno un generale molto più forte del nostro Ma siamo al doppio di loro Non lo so Vedremo Continuo a capire Perché mi dice che hanno la provincia di Rudiana Quando ce l'abbiamo palesemente noi Si stanno Facendo degli strani No C'è gente che ci Eh non abbiamo più governatori Eh vabbè Allora qua E a posto Avanziamo Quante Truppe hanno 1244 E continuo a guadagnare tantissimi soldi Porca miseria Sarà ancora molto complicato Noi ci vediamo nel prossimo episodio Per questi due episodi È abbastanza Ciao a tutti E buona giornata Ciao a tutti